Non trovo altri... Vediamo se ha trovato qualcosa da fare, se... Pronto, Tony? Tony? Ce l'hai già in testa, Tony? Ce l'avevi... Non puoi fare se... Tony, vai! Tony? Pronto! Pronto, Tony? Come stai? Sto bene! Purtroppo qua c'è qualcosa che non funziona! Eh, vediamo con l'altra, ecco... Oh, la funzione! Eh, con l'altra coppola... Eh, purtroppo ho sbagliato il cappello... Eh, succede, che deve... Mi senti? Sì, bene! Mi stavo sentendo, mi sono stufato! Perché? Mi sono stufato, mi sono stufato, lo capisci? Eh, sì, lo sappiamo, fai tutti i ruoli di mafioso, di cattivo... Dello tu! Eh, di cattivo e basta, cioè, ti fanno fare solo ruoli di mafioso... Sempre quelli mi fanno... Eh, lo so, eh, lo so... Sempre quelli... Eh, lo so... Riga due... E che mi fanno fare i film, i film... No, Riga due, perché... Aveva preso il giro largo, spero a me... Vuoi scommettere? Io non lo guardo proprio alla Riga, voglio vedere come fai... Vabbè, andiamo, andiamo, andiamo... Vogliamo scommettere... Andiamo... Vogliamo scommettere... E facciamolo... Ah... Ti sto dicendo... Eh... Mi sono stufato... Di fare cosa? Un film di fantascienza... Eh... C'è cosa di fare? Il capo mafia spazzato... Mi sono rossi... Mi sono stufato... Ma perché non potete fare cosa normale? Il telegiornale... Il telegiornale? Le previsioni del tempo le puoi fare secondo Dio? Le previsioni del tempo? Perché le posso fare le previsioni del tempo? Sì, certo, certo, ci mancherebbe... Ma le posso fare le previsioni del tempo? Sì, prova, facci sentire allora... Dillo sì, fallo... Sì, fallo... Ti faccio sentire come potrebbero essere... Sì, le previsioni del tempo fatte da Tony Sperandero, sentiamo... Ah... Sì... Dove andate? Dove andate? Eh, non lo so, quando... Senti, devi stare zitto... Quelle erano già le previsioni... Io le faccio a modo mio... Ok, vabbè, sentiamo... Ripartiamo con la sigla... Riparti canzi... Scusate... Senti, tu, siglologo... Una cosa... No, si dice... Siglaiologo... È vero, hai ragione... Non fare... Eh, vabbè, chissà... Questo... Questo... Dove andate? Dove andate? A fare la gita fuori porta? Vi volete divertire? Vi portate un cistino con la mulenciana? Beh, adesso, perché uno deve dire... Siete pronti? State uscendo? Siete con la macchina a cabrio? Sto l'ingio! Piove! 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 Non mi sembra... Piove! 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 Piove, vi bagnate tutti! Tornate! State a casa! State a casa! Non uscite! State a casa! Come nel lumache dovete uscire! Quando venisce di piove... Uscite! Come i polulici dovete uscire! Basta! Com'era? È perfetto, preciso... Io non uscirei... Vabbè... C'è stato convincentissimo... Vabbè, vi sto salutando... Ah, vabbè, ok... Vi sto salutando Gerundio... Ah, Gerundio, vabbè, giustamente... Vi sto salutando... Vi sto salutando... Certo... Che avete oggi ospite oggi? Salemme! Vincenzo Salemme! Bravo! 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 Ciao! Ciao! Grazie! Ciao!